Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Perfetto, così, continua, continua già, bravi, così, ancora, ancora, sempre quel lavoro già, è ottimo, sempre questo, così, come arrivano in fondo, va bene, va bene, va bene, va bene. Dai Ale, dai! Mettiti profe, bravo, 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 bravo! Dai già che l'hai sentito, così, giù, bravo! bravo John, ottimo chiudi John grande ripresa, bravo bravo chiudi bravo 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 Roberto, Roberto, guarda lui, l'ambusca, guarda lui Vince l'incontro Gianni Tenaglia, angolo rosso Grazie Grazie a tutti 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 Metti quel jab e non cliccati con la gamba davanti Però esci fuori sempre Grazie a tutti 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 In incontro Grazie a tutti 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 Vai Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti